Ehi, ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvessnap, vi auguro un buon fine settimana a tutti quanti, oggi è venerdì e come ieri anche oggi vi ricordo che la stream per l'appunto salta, devo organizzare tutto perché devo affrontare un trasferimento capi già domani e quindi oggi mi devo un attimino organizzare perché devo portare via tutta questa roba. E quindi non ho il tempo nella testa per streamare, ma non vi preoccupate per fortuna ovviamente abbiamo modo di sentirci anche qui su YouTube e quindi anche oggi per voi andiamo a mettere un botto, un contenuto esclusivo su The Marvessnap. Come avete sicuramente notato ormai Arishem ha preso prepotentemente il metagioco e questo lo si può capire dal fatto che praticamente tutti stanno giocando Arishem, cerchiamo di prendere delle contromisure. Già che gli ultimi due video che sono citi sul canale sono stati due video di Arishem, oggi regà vorrei provare a capire cosa possiamo fare per poter giocare a un qualcosa di diverso ma che al contempo possa essere buono contro Arishem. Due sono le cose che mi sono venute in mente, la prima è giocare un mazzo full tech che stamattina proprio non ho voglia di giocare, un mazzo quindi Serra, Rogue, Shang-Chi, Shadow King eccetera. Oppure regà tendenzialmente giocare contro gli Arishem utilizzando un mazzo Loki. Se il mazzo Arishem buildato è un mazzo good card, se voi giocate Loki andate a prendere anche voi lo sconticino di umana e fondamentalmente andate a prendere le carte forti che per l'appunto la gente gioca con il suo Arishem. Con la differenza che con Loki è molto facile ovviamente pescare Loki, mentre con Arishem è doppiamente più difficile. Quindi l'idea è avere più consistenza nel giocare Loki, rubare ovviamente il mazzo Arishem dell'avversario e quindi poi tendenzialmente batterlo con le sue stesse carte. Ed è quello che proveremo a fare oggi. Ovviamente regà non ci dimentichiamo di mettere un like al video e di iscriverci al canale prima di tutto e poi veramente possiamo vedere il video. Allora regà la lista dei Loki è molto classica. Ovviamente mazzo Loki con counter card, Shen Shi, Red Guardian e basta in realtà. Allora per la presenza massiva di Dark Oak potremmo anche pensare di metterci Rogue. Io onestamente ragazzi non saprei chi togliere perché a me Cable piace tanto. Non saprei veramente chi togliere per Rogue. Adesso ci facciamo qualche partita. Se vediamo che effettivamente ci serve Rogue perché becchiamo Dark Oak, Kaiosa, possiamo veramente pensare di togliere Cable. Anche perché le altre carte non credo siano toccabili. Il fatto che Cable è forte per evidenti motivi. Poi ovviamente regà non possiamo togliere tutto il setup di punti perché quello ovviamente a noi ci serve nel caso in cui dovessimo briccare Loki. Ma la domanda che vi faccio è la seguente ed è la domanda per la quale esce poi e nasce sto video. Ossia ma secondo voi se non prendo Loki ce la faccio a vinte contro un mazzo Arishem basandomi solamente sui punti di questo mazzo? No? E che ne so infatti è quello che dovremmo capire. Ovviamente siamo contro un mazzo Arishem. Dai incredibile. Perché senza dei Loki regà dovremmo solamente fare affidamento a Shang. Praticamente Shang ti ammazza Blob o Dark Oak che al massimo ti vince una location. E poi com'è che si dice? I cazzi sono altri. Vediamo. Qua possiamo fare doppia cappa su dell'infermo. Gli distruggiamo ovviamente doppia carta. Non andiamo in overdraw. Regà speriamo dei pesca Loki. Lui mi si adappa sto Bishop bello Cagliardo. Gli spacco Devil Dino. Gli spacco Arishem. Non avrei voluto vedere la morte di Arishem onestamente. Purtroppo regà però come sicuramente state notando non c'ho Loki. E questo è un problema che non c'ho Loki ovviamente. Credo che Jeff Kitty Pryde sia l'unica play che posso fa. E come vedete regà a parte il fatto che vabbè qui abbiamo veramente briccato tutto. Lui pure sta messo male male male. Il problema regà è che comunque sta facendo più punti di me. Ok penso che snappiamo no? Beh direi che Loki con 6 carte in mano a turno 4 lo snappiamo. Questa è una giocata molto forte da parte sua. Sono convinto che avrete notato quello che è successo Martyr. Bene. Bene. Molto bene. Allora Queen Jet. Blob. Queen Jet Blob. Poi vediamo. Blob che hanno timuto di 3 e 6. 3 e 6 e 9. 10 e 1 in 2. Ma qui sì. Blob in realtà va bene. Lui snappa. Io collo. C'ho Shang-C Absorbing Man regà. Mi sento abbastanza forte. 5 e 7 e 8 e 9 e 10. Vediamo. No non ci credo. Ci credo. Audio. Shang-C. Sposto Jeff. Mockingbird. Non basta. Secondo me è winnable. Lei mi deve capire come. Allora. Jeff. Shang-C. Absorbing Man. Mockingbird. Vibraio. Ok. Ho avuto un attimino bisogno di una strecciata. Mi sono dovuto un attimo alzare perché. Sendivo puzza di autismo. E la puzza era effettivamente una puzza che proveniva dal mio avversario. E rica. La cosa bella e la cosa soddisfacente ogni tanto succede. E qua. Ora. Ovviamente. Lasciate stare il tipo. Il suo ultimo turno. Ma. L'idea è esattamente quella che vi volevo condividere. Cioè. Ehm. Letteralmente è questo quello che intendo io. Ossia. Fondamentalmente basarsi su un mazzo più consistente. Con meno carte. Con Loki. Per andare a fottere gli Arishem. Andando a giocare dei Loki migliori dei suoi. Riga. Io capisco bene il fatto che Loki possa essere un mazzo un po' ridonnante. Un po' rivisto. Ma in questo momento il meta è delicato. Noi non ci possiamo assolutamente permettere di giocare Silver Surfer o Thanos. Sono mazzi troppo deboli contro Arishem. Abbiamo bisogno. Di andare a combattere gli Arishem. Nel loro stesso campo. Naldro Arishem. Ovviamente. E quindi tendenzialmente cercare di ecrollare. Come abbiamo fatto esattamente la partita precedente. Bene. Vabbè. Giochiamo su Atlantide. Tanto comunque siamo Loki. Sicuramente Atlantide verrà riempita. Non abbiamo Loki. Non abbiamo una buona mano. Lui Arishem. Dovete. Dobbiamo iniziare veramente a foldare purtroppo. Noi non stiamo giocando il mazzo meta. Noi siamo quelli che hanno difficoltà. Perché non stanno giocando un mazzo con 200 mana. Noi quindi dobbiamo essere passivi. E nel momento in cui non abbiamo Loki. Ricordatevelo. Se non avete Loki in mano. E vi snappano. Foldate sempre. Non meritano il vostro cubo. Perché probabilmente loro stanno giocando Arishem. Hanno già una mano incredibile. Possono già giocarti tutto un turno prima. E voi se non avete Loki. Senza Loki regà. Non ce la fate con i punti. A gappare uno che te gioca. Blob di turno 3. Non riesci. Non ce la fai. Quindi tendenzialmente. Oggi è il giorno in cui vogliamo vedere Loki. Comunque primo game 8 cubi. Secondo me è perso 1. Netto dei cubi 7. Va bene. Va bene così. Ok. No. Il mondo fucina. Ma vai bro. Il mondo fucina. Mannaggia. Io quando il mondo fucina 8 location. Mi ricordo. Doggiai. Cioè proprio. Non apri il pc. Mi segregai in casa. Quindi è la prima volta che io gioco in realtà. Col mondo fucina. Che mazzo è lui. Non è Arishem bro. Pare vero. Vabbè. Quindi se non è Arishem. Ovviamente cambia tutto. Niente. Continuerei a giocare sul mondo fucina io. Facciamo Angela. In tu. Cable Kitty. Non siamo messi male. Ci manca quella cartina in più. Per snappare. Ci manca quella fina. Fina in più per snappare. Però. Vabbè. Lo stesso. Lo stesso. Beccotina snappa. Mamma mia. Mamma mia. Cable Kitty. Mamma. Vabbè. In realtà sti cazzi. Facciamo la sinistra bro. Dai. Non penso che mi. Non penso che mi. Clughi. Solo il mondo fucina. Può cluggarmi. Shang. Carino. Buono. Ok. E. Elsa. Kitty. Sempre bello. Regà. Vabbè però. È sempre bello. Giore un mazzo con Elsa. E tutti questi engine di punti. Poi. Ripeto. Stiamo contro. Control. Probabilmente. Sì. Ok. Siamo contro contro. Questo gioca Dark Hawk. Tra le altre cose. Tra le altre cose. Se cambio strange accade. Mi sto tipo. Se prende pure Pri. E posso fare Shang ultimo turno. Condendo lui. Ua. Jeff Kitty. No. E non prendo Pri. Ovviamente. Vediamo. Ok. Ora prendo sicuramente Pri. Shadow King l'ha fatto molto lento. Cioè. Io. Capisco bene il fatto che lui voglia fare Dark Hawk. Però. Bah. Jeff. Eh. Sicuramente qua. Eh. C'è una mano di merda. Mamma mia. La roba veramente brutta. Chiamiamo prima che sbocco bro. Meno male. Mamma mia. Una cosa veramente pessima. Ovviamente regà. È ovvio. Cioè. Nel senso. Nell'intro. Quando vi dicevo che c'è un mazzo. Se era contro. Eccetera. È esattamente quello che c'è al mio avversario. Qual è il problema? Il problema è abbastanza visibile. Nel momento in cui. Tu giochi un mazzo con. Shang. Dark Hawk. Shadow King. Tu fondamentalmente stai giocando un mazzo full counter. Soprattutto ad Arish. E. Se giochi contro altri mazzi. Tipo il mio. Non si fa troppa difficoltà nel vincere contro di te. Capito? Poi per carità. Se ti gioco loghi. Prendo solamente counter. Il problema è che se tu giochi solamente counter. Non fai punti. Cioè. Seige non è un problema. A Dark Hawk. Comunque abbiamo Shang-Chi. Cioè capito? Non è forte. Non fa effetto. Non lo subiamo troppo. Quindi in realtà. Non lo so. Giocare un mazzo se era control. E non beccare Arish. E' un problema. Ma quindi Tina esiste. Ancora un mazzo non Arish. Ma va bene. E. Ma bro. Io passerei. Ci manca il drop a uno peggio che Tina. Killna? Ok. Angela. O Tina che scala in mezzo. Non lo so. Facciamo Angela. Magari. Ci facciamo anche Tina. E. Red Guardian è molto forte. Secondo me qua. Red Guardian è buono. Molto buono. Però Tina scala no? Vai giochiamo Tina. Tina cosa. Ok. E. Qui probabilmente regà. Perderemo. Qui probabilmente perderemo. E. Che faccio bro? Boh. Kable. Snogart. No Snogart. Qui perderemo perché? Perché? Perché ho briccato tantissimo. Lui non fa niente man. Mamma mia. Ovviamente regà l'idea è quella di. Ammazzagli i Blue Marvel. Vediamo. Per un cubo chiamerei eh. Però. Vediamo. Ovviamente. Non gli ho ammazzato Blue Marvel. Come Ultron. E oggi regà. Non so quello che sta succedendo. Ma come Ultron? Ma. Ma che vuol dire Ultron? Ma cos'è? Ma come pretendi di vincere con Ultron? C'è questo è giocato Handman. Squirrel Girl. Blue Marvel. E Ultron. Con Ultron perde il mezzo sullo spot. E a destra. Fa comunque pochi punti. Considerato che c'è il nido di Lira. Vabbè regà. Ovviamente c'è. Nel senso sti game. Lasciano un po' il tempo che trovano. Voglio dire. Ogni tanto becchi qualcuno. Che sta un po' tutto psicopatico. Regà. Vi ricordate quello che ha giocato Mystique? Ve lo volevo ricordare? Primo game. All'Ioth. Che mi spacca Blob. E poi gli si tappa la vena. Probabilmente. Mystique destra. Ha fatto Mystique più carta addirittura. Angel. Ha fatto Mystique più Angel. Ma ricordatevi che comunque nel mondo. Si sono anche queste brutte cose. C'è l'omicidio. C'è lo stupro. E ovviamente c'è. Mystique Angel su Marvel Snap. Ma. Precisamente no. Loki. Do sta? E capire. Senza tendenziosità. Pei capire do sta. Non è per cattivere. Vabbè. Facciamo tena. Mamma mia. Bro. Che puttanaio. Che puttanaio. Che puttanaio. Allora. Non so. White Widow. Che non vorrei giocare. Però. Tocca giocarlo che forza. Facciamo White Widow Elsa. Così perlomeno scalo con Egotena. Ma Loki. Dove madonna sta? Bro. È incredibile. Una partita abbiamo fatto con Loki. Ovviamente l'abbiamo vinta. Questa ha snappato ovviamente. E io. Regà. Devo foldare. Cioè. Vi ricordate? È lo stesso ragionamento fatto prima. Io capisco bene che su sto gioco foldable di perde un po' il cazzo. Perde la virilità. Perde lo status di uomo. Capito? Però regà. Alcune volte voi dovete capire che tendenzialmente perdere un cubo non fa alcun tipo di differenza. Perderne 4 è colpa tua. Quindi se perdi un cubo la colpa è dell'avversario. E se ne perdi 2 la colpa inizia a diventare un pochino più personale. Se ne perdi 8 poi vabbè insomma eh. Vorrei chiudere questo video regà con una carta complice secondo me del suo win rate. Che è come Loki. Che è Loki. Vi vediamo eh. Poi comunque di base comunque sto contento della prestazione del mazzo. In questo mondo affollato di mostri rossi. Però insomma noi in frattempo giochiamo contro Arishem. Però ripeto non mi dispiacerebbe per niente. Questa è un po' la verità. Vediamo. Fima. E non c'ho Loki manco sta partita. E lui ha trovato qui in getto una carta su 24. E io Loki l'ho trovato una partita su 5 tipo. A me non mi sembra normale come probabilità statistica. Però vabbè eh ok. Che ti devo dire? Va bene bro. L'accetto. Cazzo è Nelettra? Sei un chad. E vai giochiamo carta a caso. Mamma mia. È il problema che adesso Elettra ma ammazza qui in getto bro. Però vabbè dove succede no? Qui in getto cable. Fa veramente schifo bro. Mangia da qui in getto. Mamma mia. Perché non avendo né kitty né jeff è un problema grosso capito? Ma poi guardate che location sto a vedere. Qui in getto cable. Magata quinta. È uguale. Non cambia un cazzo bro. Non cambia assolutamente nulla. Loki. Io guarda veramente bro. Rosico come una bestia. Cioè non è possibile che trovo Loki prima di me. Ma il mio mazzo è fatto apposta per trovare Loki. Famo snow guard cable. Ma non so bro. Era mai umori prima. Cioè veramente sono disperato. Ovviamente arriva. Adesso mi arriva Elettra su qui in getto eh. Mi stick. Non serve a nulla. Ma vi dico raga potete andare peggio eh. Potete andare peggio. Ah tiriamogli subito Loki. Che cazzo vi devo dire? Tiriamogli subito Loki. È vero perché lui comunque adesso Elettra non ce l'ha più. Il fatto che è un Loki con quattro carte in mano non sembra un Loki. Sembra un po' una merda. Vediamo. Niente. Niente l'Ioth ovviamente adesso non funziona più. Niente l'Ioth ovviamente. Buo. Il collo dei cantoni è questo Il problema è capire se lui mi vuole contestare a sinistra o meno Capito? Perché se non mi vuole contestare a sinistra probabilmente all'Ioth in mezzo è più forte Quindi in quel caso posso foldare destra e fare all'Ioth Nifuri Sapete ragazzi che mi piace di più all'Ioth Nick? Piuttosto che giocare 10 punti di merda a destra? Ok, ok Guardate che alla fine comunque la cosa importante no? Alla fine la cosa importante è farcela Cioè oggi comunque noi ci siamo messi con un mazzo senza Arishem Siamo entrati nel battlefield Abbiamo sfidato un sacco di gente scarsa Mi raccomando Voglio dire va bene Però poi però ci siamo messi a giocare effettivamente contro gli Arishem E di fatti regà il nostro mazzo Thanos Che non è un mazzo good card Scusami è un mazzo Loki Contro Arishem Loki Eh amore il suo Loki prende Kitty, Quinjet, Snowguard Tena, Angela, Cable Prende tutte carte, tutte Forse a parte Shang Che fanno tutte schifo per lui Perché non sono carte che fanno punti Cioè Tena guarda sta ancora uno sta Cioè capito? Quindi sono carte che non fanno punti E che quindi non gli fanno vincere la partita Nonostante il suo mazzo in più Mentre noi Siamo un mazzo che solitamente Se tappa in early game Quindi carte come Tena e Angela Per noi fanno punti Perché noi giochiamo in mid game Dopodiché Loki E giochiamo le carte dell'avversario Per vincere la partita Regà il Loki funziona E secondo me Lo dico tranquillamente Il Loki è forse il miglior counter ad Arishem Secondo me Comunque Spero che anche questo video capo ti sia piaciuto Se così fosse Ovviamente Lascia un like O non farlo Non so Fai quello che ti pare Noi Oggi in live non ci vediamo Ci rivedremo domani Per il canonico e classico video su YouTube E poi ovviamente domenica Regà In cui riprenderanno le trasmissioni Regolarmente Un buon proseguo di giornata Un grosso abbraccio E bella